Il sindaco lo liquida come un errore di trascrizione, i sanzionati ne chiedono l'annullamento e la procura ha aperto un'inchiesta per falso in atto pubblico. E tutto ruota attorno all'autovelox di via Kennedy Ariese Pio X, strada trafficatissima che porta ad Altivole e autovelox che non è nuovo polemiche su sanzioni e affini. E se finora si contestavano tarature e velocità, adesso la questione si è spostata su chi ha firmato i verbali che non è l'agente preposto. Risultato? Un centinaio di multe sotto sequestro e inchiesta dal tribunale per falso in atto pubblico. L'esposto è in forma anonima, pare innescato da una soffiata interna al comune. Dal resto l'autovelox in questione non è certo simpatico agli automobilisti, considerando il record di sanzioni quotidiane rilevate, oltre 2.000 su un traffico giornaliero di 12.000 veicoli, con 300 verbali spediti solo nei fini settimana. Ma dal comune il sindaco Matteo Guidolin si dice sereno sull'esposto. Si tratta di un errore di compilazione, peraltro già risolto. Comunicazione ad ogni sanzionato del precedente verbale e notifica di quello corretto. Tutto qui, come dire, se qualcuno pensava di farla franca, si è sbagliato di grosso.